Cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il Movimento 5 Stelle avanza l'ipotesi dell'applicazione della legge Severino per Oliverio. La replica dell'avvocato difensore del Presidente è un'interpretazione sbagliata, non conoscono la materia. Il Ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli sarà a Cosenza venerdì, ma non incontrerà il sindaco della città. Occhiuto esprime di sé appunto e teme per i 45 milioni già finanziati per il centro storico. Riaperto è il traffico sulla statale 107 tra Sanfili e Paola, senso unico alternato dopo la frana. E a Spezzano nei weekend verrà rimosso il semaforo che fa stare in file turisti. Giornata di proteste in Calabria. A Guardia Piemontese i lavoratori della Sateca proclamano lo stato di irritazione e rischiano un posto in 500 alla mezzia sit-in permanente dei dipendenti della SACAL. Il procuratore aggiunto alla dirà di Catanzaro Vincenzo Luberto, pubblico ministero nel processo per l'assassino del piccolo cocò, ha chiesto l'ergasto per gli autori dell'orribile omicidio. I finanzieri in servizio nel porto di Gioia Tauro hanno intercettato oltre un quintale di coca occultato in rotoli di carta. La droga avrebbe fruttato 23 milioni di euro. Tutto procede secondo le aspettative al Marulla di Cosenza. Sistemati i problemi di drenaggio del terreno di gioco. La gara in programma domenica prossima si svolgerà regolarmente. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque in apertura lo scontro tra i 5 Stelle e Oliverio. I pentastellati chiedono l'applicazione della legge Severino e la sospensione del governatore. Immediata la replica del legale del presidente Oliverio, l'avvocato Belvedere, che dice la provvisoria misura cautelare ai cui sottoposto il governatore, non rientra nelle previsioni della legge Severino. Ma sentiamo. Tra i 5 Stelle il governatore Oliverio ormai è guerra aperta. Per i pentastellati il presidente va sospeso dalla carica in virtù della legge Severino. Per i parlamentari Alessandro Melicchio, Bianca Laura Granato e Riccardo Tucci, dopo l'obbligo di dimora a cui è sottoposto il presidente della regione a seguito del suo coinvolgimento nell'inchiesta all'ante desolate della DDA di Catanzaro, il tribunale ha di fatto vietato al governatore di andare nelle due città dove dovrebbe svolgere il suo mandato elettorale, ossia Catanzaro, sede della Giunta e Reggio Calabria, sede del Consiglio. E la legge Severino, sottolineano i 5 Stelle, prevede la sospensione dalla carica del presidente della Giunta regionale quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale. I parlamentari pentastellati hanno inviato un'istanza al governo e al prefetto di Catanzaro per chiedere l'acquisizione di copie dei provvedimenti con i quali è stato disposto per Oliverio l'obbligo di divora a San Giovanni in Fiore e verificare se vi siano i presupposti per l'applicazione della legge Severino. A stretto giro di posta è arrivata la risposta illegale del governatore Oliverio, l'avvocato Enzo Belvedere, il quale sottolinea che la provvisoria misura cautelare a cui è sottoposto il governatore non rientra nella previsione della legge Severino. Per il difensore di Oliverio, ai parlamentari grillini sfugge non solo il dato normativo e la differenza tra il divieto di dimora e obbligo di dimora, sottolinea, quanto la circostanza che già da sabato scorso il governatore è stato autorizzato dal GIP a partecipare ai lavori della conferenza Stato-Regioni che si tiene a Roma. È il braccio di ferro tra il ministro della Salute Giulia Grillo e il presidente della regione Mario Oliverio scatena la polemica politica in Calabria e il senatore Siglari ha provato a mediare fra le due posizioni. Alla fine della fiera, come era ampiamente prevedibile, polemiche a go-go. La ministra Grillo non l'ha presa bene, tanto è vero che non ha perso tempo e ha fatto sapere subito che farà di tutto per contrastare Oliverio. Beh, non è certo una novità perché anche l'ex Lorenzin, seppur mai apertamente, non ha perso occasione per remare contro il presidente della regione. Quindi, sotto questo punto di vista, non c'è alcun cambiamento nell'approccio. Allora, il governatore ha fatto le sue scelte per come e nelle sue prerogative si è mosso, come ha sempre fatto, indipendentemente da un inusuale diktat giunto via Facebook, che, diciamolo francamente, era più rivolto a compiacere il proprio elettorato che a testimoniare vicinanza alla Calabria. In tutto questo, è chiaro, la politica si inserisce, soffia sul fuoco alimentando la polemica e ci sguazza. E così c'è chi, come il senatore forzista Siglari, si offre come mediatore per favorire il dialogo tra la ministra e il presidente, perché, chiosa, la salute non può essere argomento da muro contro muro. Difficile che l'operazione riesca. Forse si sarebbe potuto evitare tutto questo, se anche in Calabria il governo avesse agito come con la Campania, regione in cui, dopo le dimissioni del commissario, il pacchetto salute è stato consegnato nelle mani del governatore De Luca. Ma questa è un'altra storia. Ciò che ai calabresi interessa è che la qualità dei servizi migliori. Questo sì che è un argomento che sta a cuore ai calabresi. Un altro ministro ha creato problemi e polemiche. Si tratta del ministro per i beni culturali Alberto Bonisoli, che venerdì sarà a Cosenza, ma non incontrerà il sindaco Mario Occhiuto per parlare del centro storico. Il primo cittadino di Cosenza stigmatizza la decisione e pensa ai finanziamenti già promessi. Il ministro per i beni culturali Alberto Bonisoli venerdì sarà a Cosenza, ma non andrà a Palazzo dei Bruzzi, come invece previsto, dove avrebbe dovuto incontrare il sindaco Mario Occhiuto. L'appuntamento è stato annullato quando tutto era già predisposto per accogliere il ministro, comprese mappe e relazioni relative a tutti gli interventi pianificati dal comune per la riqualificazione e la valorizzazione del centro storico. Il primo cittadino non ci sta e ha convocato la stampa per illustrare i progetti, ma anche per esprimere il suo disappunto e tutte le sue perplessità. C'è stata un'ingerenza da parte di alcune forze politiche locali, con dei rappresentanti che hanno convinto a cambiare il programma al ministro. Questo è un atto grave perché un ministro della Repubblica non può farsi condizionare dalla politica. Qui esiste un principio di leale collaborazione fra chi governa, che sia sindaco, governatore, ministro, e tutti devono lavorare, a prescindere dalla loro appartenenza, per il bene comune. La preoccupazione del sindaco è che si possa intralciare o ritardare la realizzazione del percorso per la valorizzazione del centro storico. Le risorse finanziarie ci sono e sono tante, 45 milioni di euro già finanziati, oltre ai 90 milioni previsti dal Cipe. Questi ulteriori 90 milioni previsti da una libera Cipe potrebbero essere molto utili per la riqualificazione dei sottoservizi, per la riqualificazione degli imbianti e degli spazi liberi aperti, per fare un'attività di programmazione legata anche alla valorizzazione culturale e turistica del centro storico, per una serie di ingentivi che possono essere destinati a privati che vogliono adeguare i loro immobili e migliorarli da un punto di vista sismico e strutturale. Quindi ben vengano questi finanziamenti, ma devono essere tali da poter essere poi spesi nei tempi previsti dalle norme, perché altrimenti, come sempre avviene in Calabria, poi queste sono solo sulla carta, si perdono i finanziamenti e vengono impiegati per altri. Quindi un buon sindaco, un buon amministratore, anche chi fa progetti e ottiene i finanziamenti, ma poi li spende pure realizzando le opere che sono necessarie per il progresso del nostro territorio. Apriamo la pagina relativa alla viabilità, buone notizie dal 107. Intanto sul fronte sirana crotonese, dalla parte fra Paola e Sanfili, riapre a senso unico alternato dopo la frana e un imprenditore ci racconta la sua storia di disagio, sia dal punto di vista imprenditoriale che familiare. Sentiamo. Come previsto, l'ANAS questa sera ha riaperto al traffico a stata le 107 sirana crotonese, chiusa nei giorni scorsi nel tratto tra Paola e Sanfili, a causa di una frana. Il transito, fino al termine lavori di consolidamento, sarà consentito a senso unico alternato e regolato da un impianto semaforico. Situazione dunque meno difficile per gli autobiristi, costretti finora a girare l'ostacolo attraverso i percorsi alternativi, come era successo già l'anno scorso. In questi giorni sono stati in tanti a subire i disagi per interruzione dell'arteria. Un nostro telespettatore, proprietario di un agriturismo della zona, ci ha voluto raccontare le sue difficoltà da imprenditore. Transennando una corsia, quella di destra, e far passare sulla corsia di sinistra, al lato mare, si transennava quella corsia e tutto era sistemato. Invece no loro. Che cosa hanno fatto? Sono andati lì, hanno bloccato subito la strada e ho iniziato a perdere clienti perché hanno messo un servizio di sorveglianza per tutta la notte di polizia e di operai dell'ANAS che mi hanno bloccato. La polfer di Roma che io ho un appalto con loro e tutti gli altri potenziali clienti senza prenderlazione che potevano arrivare. Io devo essere di farci? Mi hanno fatto perdere 5.000 euro. Io sabato avevo 100 persone, avevo 3 compleanni e questi qua mi hanno creato un danno morale, un danno materiale, un danno d'immagine perché questi qua giustamente dicono che se ci ritrano alla palombare non ci diamo ciò. Non solo il signor Gallipoli, che si dice intenzionato da dire le vie regali, ha vissuto un'altra situazione di disagio, legata invece alla necessità di assicurare cure mediche alla propria madre. C'è stata mia mamma che sabato sera ha avuto il diabete quasi a 400 per questa situazione perché si è nervosita e tutto quanto e il resto. Io dovevo scendere giù all'ospedale a portare a mamma e praticamente arriviamo ai cancelli e troviamo tutto chiuso. Sabato sera è successo che è stato chiuso con i catenacci. Ci hanno sequestrati qua su. L'altro fronte invece è quello di Spezzano, la nostra battaglia iniziata dopo le file chilometriche che hanno interessato il weekend, sia questo weekend appena trascorso con degli aggiustamenti da parte di Anas che però non hanno migliorato la situazione completamente e invece di 15 giorni fa quando le file sono arrivate a costare 4 ore ai turisti, ai vacanzieri, ai pendolari, ai lavoratori che usano la 107. Qui in questa situazione dove dei lavori improcrastinabili si hanno costretto a mettere un semaforo non regolato inizialmente in modo intelligente. Ebbene interviene l'assessore regionale alle infrastrutture Roberto Musmanno che comunica che in seguito a un incontro con Marco Moladori, ingegnere responsabile del compartimento regionale Anas della Calabria, è stata concordata la rimozione di questo semaforo in località Spezzano nei fine settimana per tutta la durata dei lavori previsti che come abbiamo ricordato nei nostri servizi termineranno data prevista il 24 aprile. In questo modo, è scritto in una nota dell'Ufficio Stampa della Regione, si potranno attenuare i disagi arrecati all'utenza e dovuti all'incremento del traffico veicolare che si registra nei fine settimana per raggiungere località turistiche della Sila. Poi Musmanno ringrazia Moladori e l'Anas Calabria a nome dell'intera giunta perché hanno prontamente e positivamente risposto alla richiesta avanzata dalla Regione Calabria. Noi siamo soddisfatti perché abbiamo portato all'attenzione, prima dell'Aggiunta regionale e dell'Anas naturalmente questa situazione che era insostenibile in una regione dove si vive e si vuole vivere di turismo. Adesso parliamo di lavoro, altra nota dolente nella nostra regione, iniziamo con le proteste, sono tante in questa giornata, dalla Sateca siamo a Guardia Piemontese, società che gestisce le termine luigiane, in 500 rischiano il posto di lavoro, è stata proclamata l'agitazione. Nuova assemblea questa mattina dei dipendenti della Sateca, il personale delle Terme Luigiane il cui futuro è sempre più incerto dopo il nulla di fatto, la fumata nera registrata nell'incontro di ieri pomeriggio tra Regione, rappresentanti delle amministrazioni comunali di Acquapesa e Guardia Piemontese, comuni in cui è ubicato lo stabilimento e il sindacato CISL. La situazione bloccata preoccupa i lavoratori. Vogliamo stabilità, vogliamo avere garanzie per il nostro futuro che siano delle garanzie reali, delle garanzie a lungo termine, vogliamo stabilità lavorativa, siamo in 250 i dipendenti diretti, ce ne sono almeno altrettanti di indotto più tutto l'indiretto che arriva alle migliaia di lavoratori. Anche la zona subirebbe con il nostro fermarsi delle Terme Luigiane una crisi epocale. Siamo preoccupati perché chi come me è un giovane lavoratore che è stato assorbito da questa azienda da soli tre anni e si trova a classe 86, quindi a soli 32 anni io devo poter contare su un periodo lavorativo che non sia annuale, non sia bennale, non sia quinquennale, anche per poter fare una scelta lavorativa che sia quella di rimanere qui piuttosto che abbandonare il mio territorio. I lavoratori si sono stancati di avere proroga così come si è stancato il lavoratore ovviamente, si è stancato anche il sindacato perché il sindacato porta avanti i pensieri e le voci dei lavoratori e le rende praticabili applicando le norme. I dipendenti hanno proclamato lo stato di agitazione, l'avvertenza resta aperta, comuni e regione, secondo quanto si è preso, hanno visioni diverse e la sintesi non si trova. La conseguenza la stagione 2019 è compromessa con gravi danni per il turismo e l'economia della zona. Alla Mezzaterme adesso dove i precari della SACAL chiedono certezze sul loro futuro, è un sit-in permanente da parte dei lavoratori. Protesta d'oltranza dei dipendenti stagionali della SACAL all'aeroporto internazionale di la Mezzaterme basta precariato gli striscioni evidenti su una situazione per gli operai divenuta ormai insostenibile. Ci raccontano storie di continue proroghe, c'è chi va avanti così da 13 anni e che ora stanco, impossibilitato nel pianificare la propria esistenza, chiede risposte certe. Fin quando non avremo una risposta dall'azienda concreta, noi resteremo qua in presidio, io sono da 13 anni qua, altri colleghi sono da 12, altri da 8, da 7, insomma abbiamo superato i requisiti per una stabilizzazione e ancora ad oggi non sappiamo nulla. Continueranno questa battaglia fino a quando la società non ci convocherà, fino a quando ovviamente non andremo sul tavolo a concordare appunto il piano della stabilizzazione. Ad oltranza, not, giorno, siamo qui appunto per far valere i loro diritti. Un'avvertenza che si trascina da anni, come tante, in una regione in cui il precariato è diventato sistema di proroga in proroga, di speranze si invecchia, impoverendo una regione che, continuando così, non avrà futuro. E c'è chi purtroppo rimpiange anche il precariato. Una trentina di ex dipendenti dell'Abramo Customer Care hanno protestato a Crotone per il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato da parte dell'azienda che ha nella zona il suo call center più grande. I lavoratori in particolare protestano contro le norme imposte dal decreto dignità e chiedono all'azienda di cercare soluzioni per i dipendenti che tra contratti a progetto o a tempo determinato lavoravano da anni in questo call center. Meglio precari che disoccupati, ha detto appunto una intervistata, una lavoratrice che a gennaio non ha avuto, non ha ottenuto il rinnovo del contratto. La precarietà ha aggiunto, lascia uno spiraglio da disoccupati, via solo, si va a favorire soltanto il lavoro nero, ha dichiarato. Adesso la cronaca, il processo in corso in Corte d'Assisi a Cosenza per la strage di Cassano del 2014 in cui fu ucciso il piccolo Cocò, un bimbo di appena tre anni. L'accusa, rappresentata dal procuratore della DDA Vincenzo Luberto, ha chiesto l'ergasto per i due presunti autori. Alle battute finali il processo per la strage di Cassano, in cui venne ammazzato come un bosso un bimbo di soli tre anni, il piccolo Cocò Campolongo, ucciso e bruciato in quest'auto insieme al nonno Giuseppe Giannicelli e alla compagna dell'uomo. L'accusa, rappresentata dal procuratore aggiunto antimafia Vincenzo Luberto, ha chiesto l'ergastolo per i due uomini accusati dell'efferato triplice omicidio Cosimo Donato e Faustino Campolongo. Il procuratore Luberto ha ricostruito davanti ai giudici della Corte d'Assisi di Cosenza la genesi criminale della Sibaritide. Dall'arrivo di Giuseppe Cirillo negli anni Ottanta, la lotta con Santo Carelli, l'ascesa del clan degli Zingari e i contrasti con i Fora Stefano, fino ad arrivare alle dinamiche che hanno portato all'agguato contro Giuseppe Giannicelli, un trafficante di droga. I dissapori col clan degli Zingari, fino all'agguato compiuto dai suoi ex pusher, Donato Cosimo, detto il topo, e Faustino Campolongo, detto panzetta. Per i due l'omicidio sarebbe stato un battesimo di fuoco, una prova per entrare nella criminalità che conta. Quel 16 gennaio del 2014 non esitarono a sparare contro un bambino indifeso. Tutti sapevano che Giannicelli andava in giro con il piccolo Cocò e la compagna, detto il procuratore Luberto, per usarli come scudo, ma quel giorno i tre vennero uccisi senza pietà e i loro corpi bruciati all'interno della Fiat Punto da tale fiamme per cancellare tutte le tracce del delitto. Fu uno dei casi più eclatanti, ha ricordato Luberto, mai verificati in Calabria. Dopo il delitto del piccolo Cocò, anche il Papa arrivò a Cassano e scomunicò gli appartenenti alle famiglie d'Indangheta. Adesso, per le due persone accusate di quella strage, la DDA ha chiesto il carcere a vita. Un cittadino albanese ha cercato in tutti i modi di forzare un posto di blocco a Santo Onofrio nel Vibonese. Il motivo è perché nascondeva qualcosa di scottante nella sua auto. Vediamo cos'era. Scena da film. Oggi a Vibonese, lungo la stradale 606, che porta allo svincolo l'auto stradale di Santo Onofrio. Un'azione lampo dei carabinieri del comando provinciale ha chiuso brillantemente un'operazione che ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e dall'arresto di una corriere della droga. Tutto accade poco dopo le 13. I militari sono sulle tracce di un corriere in viaggio a bordo di un'auto station wagon. Intanto, lungo il tragitto, erano già stati istituiti una serie di posti di blocco, ma nel momento in cui l'auto riesce a saltare, il posto di controllo nei pressi dello svincolo auto stradale di Santo Onofrio scatta l'inseguimento. L'Opel Astra Station Wagon viene individuata da una seconda pattuglia, che all'altezza della rotatoria che porta all'area industriale di Maierato, con azione chirurgica, la sperona facendola finire contro un terrapieno. Un'azione fulminea e perfetta, che non provoca alcuna conseguenza, non coinvolge altri che anche involontariamente si sarebbero potuti trovare lungo la linea dell'inseguimento. Una volta blocchata l'auto, la conferma. All'interno del bagagliaio, il personale della Benemerita scopre diversi sacchi di marijuana per un peso che potrebbe girarsi intorno ai 100 kg. Con tutta evidenza, il giovane alla guida di nazionalità albanese sarebbe dunque un corriere della droga e subito viene trasferito presso il comando provinciale dei carabinieri per la identificazione e gli interrogatori. Intanto, mentre si procedeva ai rilievi dell'incidente che ha portato alla scoperta, sono partite le ulteriori indagini per accertare l'origine della droga e la sua destinazione finale, ma anche la località di partenza e di arrivo dell'albanese e per capire per conto di chi stava effettuando il trasferimento in auto dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Stesso quantitativo ma diversa la sostanza, la cocaina trovata in rotoli di carto, siamo nel porto di Gioia Tauro, vediamo. Nonostante il calo di sequestri di stupefacenti nel porto di Gioia Tauro, l'andrangheta non sembra aver completamente abbandonato l'idea di utilizzare lo scalo gioiese come punto di riferimento del traffico della cocaina. Nei giorni scorsi, infatti, è stato intercettato un nuovo ed imponente quantitativo di polvere bianca. All'interno di un contenitore che trasportava bobbine di carta proveniente da Sant'Antonio in Cile, e dopo aver effettuato uno scalo a Panama e diretto a Livorno, sono stati rinvenuti tre borsoni al cui interno sono stati stipati 100 panetti di cocaina, per un totale che supera i 115 kg di sostanza stupefacente purissima. I 100 panetti nelle mani dei criminali, tagliati anche fino a quattro volte prima di essere immessi sul mercato, ad un prezzo che oscilla dai 50 ai 100 euro al grammo, avrebbero fruttato ben 23 milioni di euro alle organizzazioni criminali e in particolar modo all'andrangheta. La sinergia tra Guardia di Finanza ed Agenzia delle Dogane resta quindi costante, ma gli addetti ai lavori fanno notare che qualcosa sta mutando nei traffici illeciti della droga che fa scalo nel porto calabrese. Se nel 2017 sono state sequestrate circa due tonnellate di cocaina, per il 2018 si è prospettato uno scenario ben diverso. Alcune analisi di recente pubblicazione, avvalorate da diverse operazioni concluse negli ultimi anni, sostengono che sia verosimile ritenere che le locali d'Indrine, divenute ormai referenti quasi uniche a livello europeo dei narcos sudamericani, siano alla continua ricerca di altri porti con un volume di traffico rilevante e allo stesso tempo con dei controlli più tenui da parte delle forze dell'ordine. In particolare i porti di Rotterdam in Olanda e Anversa in Belgio rappresenterebbero oggi i maggiori hub utilizzati per il traffico di cocaina destinata al mercato europeo. Gli ultimi servizi ci portano a parlare di criminalità, di mafie, di corruzione, argomenti oggetto della ricerca da parte di Libera presentata questa mattina. Una fotografia sulla percezione e sulla presenza delle organizzazioni in questa regione. La ondangheta che si insinua come un cancro nel tessuto sociale ed economico calabrese è un fenomeno che non va sottovalutato, anzi è secondo il rapporto di Libera uno dei degli aspetti più preoccupanti e pericolosi della nostra società. In Calabria con percentuali decisamente più elevate della media nazionale è la ricerca del prestigio e del potere uno dei fattori che inducono ad affiliarsi alle mafie. Questi dati ci servono, ci servono non soltanto per una riflessione di carattere meramente scientifico ma per una condivisione a tutti i livelli, a livello associativo, a livello istituzionale, politico per trarre spunto da quello che viene fuori da questi dati e soprattutto per cercare di individuare insieme quelle azioni concrete, per fare fronte comune a questo fenomeno ormai radicato, diffuso, pervasivo che è appunto l'andrangheta, in particolare le mafie in generale in Italia. Percentuali e cifre che emergono e pesano come un macigno alle nostre latitudini. Il fenomeno dell'andrangheta è percepito da tre intervistati su quattro come un fenomeno globale, mentre quasi nessuno ritiene che i gruppi mafiosi siano presenti solo nel sud del paese. Da qui la campagna di sensibilizzazione promossa da Libera. Dal 18 al 25 abbiamo organizzato una settimana con delle tematiche diverse, a partire dall'imbadi fino ad arrivare a Catanzaro il 25 gennaio, dal 18 al 25, dove a seconda delle tematiche affronteremo appunto a partire dai dati quelle che sono le indicazioni per poter, come dicevo e ripeto, far fronte comune alla drangheta. Il rapporto infine dedica un'attenzione specifica anche al tema della corruzione, la cui percezione in Calabria risulta molto più ampia rispetto al campione nazionale, con il 93,6% affronta il 73,4%. Viene vista ancora purtroppo semplicemente ad alti livelli, a livello soltanto politico, istituzionale, governativo, ma meno sia la percezione della corruzione a livello un tantino più burocratico, più pratico, a livello quindi di tutta quella marasma di burocrazia che insomma in Italia nel corso di questi anni si è venuto a creare. E anche lì c'è un grosso lavoro da fare. In Calabria, grazie a Dio, rispetto anche a altre regioni, c'è una grande consapevolezza del valore dei beni confiscati, dell'utilizzo e delle finalità. Per cui questo ci consente di dire che insomma Libera ha fatto un buon lavoro da questo punto di vista. E adesso lo sport, il calcio, fra poco ripartirà la Serie B, le squadre si stanno preparando, il Cosenza lavora per essere pronto per la sfida di domenica contro l'Ascoli, gara importantissima per riprendere il cammino sospeso dalla pausa invernale e anche il Marulla, il Marulla si lavora per prepararlo, nonostante i problemi atavici anche il Prato dello Stadio Cosentino sarà in forma per domenica. Cosenza Ascoli si giocherà al San Vito Marulla domenica 20 alle ore 15. Il terreno di gioco, come vedete alle mie spalle, è in perfette condizioni. La ditta incaricata sta eseguendo degli interventi migliorativi che ridurranno i problemi del sistema di drenaggio del manto erboso riscontrati nel giro d'andata. In questi giorni si stanno completando i lavori effettuati durante la pausa invernale e il terreno di gioco sembra aver risposto bene alla tecnica di micro-slits scelta dagli esperti intervenuti. In questa fase il campo è stato preservato dalla pioggia per rendere più efficaci gli interventi che prevedono anche la rizzollatura in alcune zone più usurate. Gli operai sono al lavoro e tutto sarà pronto per disputare la prima gara di ritorno del campionato cadetto nel Fortino dei Lupi. Dopo aver sollevato i teloni che preservano il terreno di gioco dagli agenti atmosferici nei giorni scorsi, il tappeto come mostrano le immagini ripese questa mattina dalla nostra troupe è di un verde vivido. La prevendita è partita questa mattina e il clu si avrà nel weekend quando ci sarà la corsa al prezioso tagliando. Il DS Trinchera da Milano lavora per inserire in organico elementi utili e innalzare il tasso tecnico della squadra offrendo alternative a mister Braia. Domenica l'avversario è alla portata nonostante si trovi a cinque lunghezze di distanza dal Cosenza e dopo il pareggio dell'andata i Lupi puntano a ripartire alla grande. E adesso il meteo per le prossime ore, vediamo. Dopo il passaggio di una veloce perturbazione il tempo ora volge al bello con cieli sereni e tersi ripuliti da una sostenuta tramontana fredda per la giornata di martedì. Farà piuttosto freddo inizialmente ma già dalla giornata di mercoledì avremo una ripresa delle temperature sotto l'effetto di più miti correnti occidentali. Diamo uno sguardo al tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Domani generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque, temperatura in aumento. Passiamo al comportamento di mari e venti, domani venti ovunque dai quadranti occidentali tra deboli e moderati con mari generalmente poco mossi. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata. Cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.